Il recente conflitto in Ucraina ha gonfiato i prezzi dell'energia, innescato speculazioni e generato un'inflazione che non vedevamo da 40 anni. Al convegno di solidarietà Veneto si è evidenziato come i fondi pensione potrebbero avere un ruolo rilevante in questa fase di cambiamento di dipendenza energetica e di sfida alla sostenibilità con le energie rinnovabili. Alberto Clò, economista ed ex ministro dell'Industria, è intervenuto per una lunga relazione e per evidenziare quali sono gli obiettivi da perseguire. Naturalmente la relazione è stata interessante e ha evidenziato anche dei ritardi dell'Italia, ha evidenziato dei punti da superare, però sicuramente usciamo da questo incontro con maggiore chiarezza anche per quelli che sono gli obiettivi del Fondo Veneto. Investire i soldi degli iscritti anche in realtà non solo sostenibili ma in realtà che si occupano di energia e in particolare di energia rinnovabile. Il 2021 è stato forse il migliore esercizio del Fondo Pensione del Veneto. 120.000 iscritti, un flusso contributivo pari a 220 milioni, hanno fatto raggiungere la soglia dei 2 miliardi di patrimonio. Il tema dell'energia non è solo un tema di oggi, dobbiamo garantire ai nostri figli fra 20 anni un'economia che sia sostenibile e che non si trovi più ad affrontare criticità come quelle odierne. Energie rinnovabili in una nuova economia circolare. Dobbiamo fare in maniera tale che tutto quello che produciamo possa essere rimesso in circolo, altrimenti il nostro pianeta scoppia.